Il balcino è... Diciamo un contratto a progetto. Un contratto a progetto per il vostro abito di Lanova. Quanti lento di lento? Almeno 4, almeno 4, dai. 3. 3 lettini per volta. Si procede a rilento. Guardate lo sforzo sovraumano. Lo porto a lavorare in edicola se non ce la fa fare il balcino. Le viene offerta anche un lavoro in edicola a 10 centesimi l'ora. Solo uocire l'ho posto. Ho approvvigione di 0,01 centesimi a giornale venduto. Cosa ne pensi? Rimangono 4 lettini, ce la farà? Si. Eccoli. Bene. Il lavoro è quasi terminato. Il lavoro sembra terminato. Bisogna tirare su ancora il pedalò. Adesso vedremo... Il ragazzo ha preso col pedalò che è circa 450 kg. Bene, quindi sotto col pedalò. Forza, sotto col pedalò. Dai ragazzi, sotto col pedalò. Forza, forza. Il mare avanza, il mare avanza. Assumi te. Sotto col pedalò. Senta via io a me. Allora, capisci? Benissi a cercare. Forza, sotto col pedalò. Dai, via. Avanti. Dimostri il suo valore. No, no, lo prenda proprio in mezzo, lo prenda in mezzo, lo spinga, spinga. Ecco, eccoli, bene, bene, bene. Ale, forza. Bene, bene. Direi che con questo la pagnotta se le meritano. Bene, 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 bene. La giornata è finita per oggi. Anche per oggi la giornata è finita. Giugno è tornato e la pagnotta è guadagnato. Giugno è tornato nel cuore e nella mente. Qui da Albissola, spiaggia popolare, una giornata al lavoro. Stacanoff Puma. L'aspettavamo, lo desideravamo. Di salute. E adesso finalmente è tornato. Siamo tornati. Summertime, me ne batto la ciò.